Caffè Vulcano, eccola, pronta a seguirmi, vero? Per vedere se i vostri costumi sono pronti? E vabbò, e scappa via. Vi stiamo preparando un'altra scena, tutti in allestimento, tutti in allestimento, che abbiamo Sabioni, il nostro produttore artistico che oggi è alla regia. Abbiamo anche la Civitaro, la nostra Teresa. Che meraviglia, è una donna fantastica, è fantastica. Qui abbiamo la nostra Chiara, l'assistente di Soviglione, la sua segretaria. Stanno preparando il giorno della donna. Questa scena andrà in onda l'8 marzo, ovviamente non vi posso anticipare, però l'8 marzo accadrà qualcosa. Grazie. 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 Grazie a tutti.